E oggi siamo qua per un nuovo video news che questa settimana ritornerà il circo dove dentro c'erano le scimmie del Pino Monkey, i Ninja Monkey, la Toy Monkey, dove c'erano le King Monkey e era posizionato mi sembra laggiù vicino al parco acquatico, in questa parte, ora ve lo faccio vedere allora stava più o meno qua dove c'è questa beretta, aspetta, qua proprio c'era qua e invece questa volta aggiungeranno nuovi pet che sono 6 nuove scimmie ma non sono proprio scimmie particolari ma oddio c'è un Bat Dragon e lo metteranno qua e ci saranno nuovi scimpanzà se non mi sembra e poi andiamo a vedere il video di Adopt Me allora apriamo questo gioco meglio con gli Robux, questo 45 Robux, allora lo compriamo io scappo intanto un Ibis com'è un Ibis? è raro dai meglio di un comune poi ne ho altri due di JapanEgg che li apriremo forse uno nel prossimo video ma non penso allora ragazzi ho fatto degli stemmi pazzeschi negli ultimi giorni tipo ad esempio, allora prendiamo la licenza, l'equipaggio, tocchiamo dentro, allora e ho preso questi qua, questi cosi di sabbia per la Sieg, forse domani uscirà il video vabbè così gli ho regalato questo perché c'era la missione e per un Lunar questo qua ho scambiato quindi è il JapanEgg che secondo me era un po' un lusse eh, però fai per un pesce scambiato la slaggia e queste cose, ve lo vedrete domani e quindi ragazzi vi ripeto che io ho la febbre alta però adesso ce l'ho un po' di meno cioè ce l'ho di meno della febbre e quindi voglio fare un bel video, volevo fare un bel video io faccio sempre il parkour ah, prendiamo il nostro polar bear po', sentite dei rumori è Amanda e da lì allora questo è il mio allora è il super polar cavalca tututu pum guardate c'è la turtle questo è molto ricco vorrei robin che mi manca ehm che bellissimo ehm una pozione fly non so se dargliela al polar bear oppure scambiarla ehm io ehm non la darei a nessuno perché altrimenti sono soldi sprecati un po' cioè e lo voglio scambiare perché oddio che cosa ci offrono per il po' questo che rifiuto faccio un bue e quattro topote ok vabbè ha bisogno di una doccia ma questo quando andrà via cioè non andrà via mai figo 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 allora e ragazzi se volete un video di stumble guys io lo faccio ah io ho tenuto una sieg e ho trovato una rana dai cioè sono stato super fortunato al posto da mia c'è un bandicoot a parte che c'ho il bandicoot però un po' troppo ecco è la rana è un bel lavoro per la verità però dai sempre pucciosa eh allora allora questa è una casa blu una casa blu ok che cosa è? ah le pizza party ehm vediamo la situation cioè allora questo non era un server ehm non è bello c'è da dire interrompi levate ok leviamo e cioè prima c'era tu un cane il gatto adesso c'è pure addirittura un ganguro c'è ehm una tartaruga e ci sono altre cose va bene ci vediamo dopo ci vediamo adesso ehm da lì che abbaia ehm e dobbiamo andare nel video di Adop ad esempio ragazzi ci sono allora intanto cosa fa il ground è il questo cos'è non 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 che è così, per me che non mi senti mai più di farvi. Ora, do tutti, e giudendo da le commenti che abbiamo visto in alcuni nostri video, credo che la risposta è sì, da un po' di più. Però, do tutti, ricordi che il Monkei è venuto? Sì, questo questo giorno il Monkei è tornato, ma il Monkei è venuto e in loro place abbiamo sei nuove gorillas per voi adottare, anche con un'ottomità di nuovi items in vehicle. What are the six new gorillas? Well, out of the box, you need the last gorilla on the long-term new ingredients. Let three of a specific ingredient and you can transform that normal gorilla into a karate gorilla, shift gorilla, gorilla fatta, or a gorilla astronauta. Each one of those comes with unique tricks out of one piece and a capo di rabbigliamento per animali rimbubile. That's just the first one and you can get all of those from the standard gorilla box. The premium gorilla box gives you the chance with not a legendary amino gorilla, as well as an exclusive ingredient allowing you to transform your normal gorilla into an emperor gorilla. The fairground arrives this Thursday. So visit playadopt.me, click the bar, and see exactly where it arrives. And if you're around, check out our lives in the background, then the gorilla box is in light with the members of the community. Of the board of the board, you can get the contact now with some YouTube videos. Vabbè, the phone art, the-get-get-get-get-get-get… Which is the right to-get-get-get, wabbè iscriviti, attivate la campanella, delle notifiche… …per non perderti e anche un video di Adopt-Me. Ebbene sì, tra due giorni e quattro ore, 52 minuti e 38 secondi, il 16 marzo alle 16, arriverà il nuovo aggiornamento. Ciao!